Tant'è che noi rincorriamo la bellezza, e certo, e noi per questo motivo che rincorriamo questa mera e fuggevole e ingannevole bellezza, tutta una vita, noi rincorriamo la bellezza, sì, e con che cosa identifichiamo la bellezza, con che cosa? Con un corpo femminile, c'è sempre un corpo femminile dietro una cosa bella. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.